Ciao da Claudio, allora oggi istruzioni per Edicola Fiore dovete andare su internet, ecco così come faccio io naturalmente su Twitter e sulla pagina di chiocciola Edicola Fiore appena arrivati sulla pagina la prima cosa che dovete fare è quella di schiacciare follower quindi seguite Edicola Fiore così almeno nella vostra pagina di Twitter riceverete ogni giorno il link fresco fresco poi cliccate naturalmente sul link del messaggio come faccio io adesso la signora Fletcher, benvenuti all'edicola più amplificata d'Italia ragazzi ah naturalmente potrà anche capitare la sera che rimediate pezzettini di trasmissione sul TG5 o sul TG1 ciao Fiore, ciao amici di Edicola e fatta tu gemella vai e fatta tu gemella bella 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 buongiorno buongiorno